Agli eurodeputati 5 Stelle non piace la decisione del prefetto di Milano di cancellare la trascrizione in Italia delle nozze fra persone omosessuali contratte all'estero, decisa a suo tempo dal sindaco Pisapia. Una interrogazione firmata da sei deputati pentastellati, con in testa Marco Valli, è stata presentata alla Commissione europea per chiedere se la circolare del ministro Alfano non contrastasse con i principi di libera circolazione e diritti civili garantiti dall'Unione. Vera Iorova, commissario della giustizia, ha risposto che il tema esula dalle competenze comunitarie. Valli e gli altri firmatari però non ne sono convinti ed annunciano nuove iniziative di sensibilizzazione sul tema. Conferenza a Bruxelles sulla tutela delle minoranze linguistiche in Europa l'hanno organizzata gli eurodeputati Shabba Sogor, popolare rumeno della minoranza ungherese, Gilles Evans, verde britannica del Galles e Herbert Dorfman, deputato sud-tilorese del PPE. Il relatore, il professor Paolo Widesot, ha parlato dei meccanismi di tutela della minoranza linguistica ladina in Alto Adige e spiegato come sia importante la scuola plurilinguistica e la creazione di prospettive economiche mirate. Dal canto suo Dorfman ha dichiarato tutti i cittadini europei hanno il diritto di parlare nella loro lingua madre. In Sud Tirolo abbiamo una buona situazione ma per molti altri cittadini europei questo diritto non esiste. Nell'Unione sono più di 50 milioni i cittadini che parlano una lingua cosiddetta minoritaria. I governi europei devono smetterla di frenare sull'Unione digitale che sarebbe invece un potente fattore di rilancio della crescita. Lo dice la capodelegazione dei deputati PD, Patrizia Toia, dopo l'audizione a Bruxelles del commissario incaricato, il tedesco Günther Höttinger. Coordinamento delle aste per l'associazione delle radiofrequenze, cancellazione del roaming, neutralità della rete sono obiettivi che il Parlamento europeo ha fissato da molto tempo, dice Toia. Dobbiamo sventare le proposte a ribasso che il Consiglio sta facendo e incoraggiare Höttinger a proseguire sul cammino già tracciato, nell'interesse dei cittadini e dell'economia europea. Dopo aver vinto l'edizione 2014 del premio Lux, nuova soddisfazione per Ida, il bel film polacco di Pavel Palinowski. La pellicola, ambientata nei primi anni 60 nella Polonia del blocco sovietico, ha vinto il premio Oscar per il miglior film straniero. La storia di Ida, la giovane novizia abbandonata in orfanotrofio da genitori ebrei in fuga dall'olocausto, dopo aver convinto la platea europea e i deputati di Strasburgo, ha conquistato anche la giuria degli Academy Awards.